Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andiamo a parlare un attimino Come possiamo vedere abbiamo qui Tidal Ma non sarà l'unica carta di cui andremo a parlare Andremo a parlare dei tournament pack 2024 Quelli OCG che sono sostanzialmente gli OTS Perché andremo a parlarne? Perché sappiamo che questi tournament pack In realtà come abbiamo già visto in precedenza Potrebbero dare dei suggerimenti Prima di iniziare come sempre ragazzi Vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima delle sempre aggiornate Ricordo che l'iscrizione ci aiuta tantissimo Io vi ringrazio detto ciò Allora I tournament pack 2024 Ma in generale i tournament pack Quelli OCG sono molto propensi a essere fatti Con delle carte che sono o nel meta Oppure delle carte che sono utili per alcuni deck Che usciranno o che sono in procinto di uscire Come possiamo vedere Qui abbiamo una carta Malincess Che comunque abbiamo visto Malincess È tornato subito in auge Con un solo supporto Che è pure per Trickstar Quindi ok Abbiamo ovviamente il Aeroshark Che normalmente è per shark E abbiamo poi Malincess 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 Serpente marino Tan 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 Allora Malincess tra l'altro È una carta che Al momento Si amare in sé Il mixer Il mixer lo sappiamo Quindi vi devo dire Tra l'altro È l'unico archetipo Tralasciando Icarus Shin E forse Leo Dragon Puramente Serpente marino Qua quasi Insomma Fa un po' riflettere la cosa Perché è uscito da qui Può essere che Nei nuovi supporti shark Sarà possibile evocarlo Molto facilmente Sì e no Sì e no Anche perché insomma Hanno un meccanismo Abbastanza diverso Alla fin fine A me piacerebbe Credere di no Mi piace pensare Che magari Uscirà Finalmente Uno strutturdeck R Atlantidea Anche perché Ne hanno saltato uno Sostanzialmente Ne hanno saltato uno I deck Ed è molto probabile Che si parte direttamente Con Quello R E vanno a togliere Quello del personaggio A meno che Poi Non Vanno a fare Delle scelte diverse Comunque I supporti luce Nell'anno luce L'hanno messi tantissimi Nei pacchi E comunque C'è lo struttur Del drago bianco Trasciando Finsmith Che comunque È un demone luce Che da solo Fa per tutti i mazzi Luce possibili Inimmaginabili Quindi Già solo per lui Possiamo togliere E mettere Via il veto Ma non solo Anche perché Comunque Tidal E Tidal È quello Acqua Perché allora Mettere quello Acqua Chissà Magari possono Mettere anche Di Drago Ruler Perché sostanzialmente È uscito L'ex di secolo Forte Chissà Se vogliono Dare un retrain Un po' più Sbroccato Di questi Draghi Che si adattino Un po' più Al meta di adesso Quello potrebbe Anche essere Però mi sembra Una cosa Meno fattibile Degli Atlantidei Quindi Chissà Secondo me È un indizio Potrebbe essere Un indizio Ovviamente Da prendere Sempre con le pinze Abbiamo visto Che comunque Molto spesso Hanno azzeccato Queste Predizioni Fatte possume Nel senso Erano uscite le carte Poi sono usciti Magari dei prodotti Nelente a quelle carte E abbiamo detto Ah cavolo Ma allora C'è Un indizio Qui Quindi A limite Noi andiamo subito A prepararci Anzi Tempo Per comunque Andare ad affrontare L'argomento Ricordo sempre Con le pinze Perché sono teorie Potrebbero essere Sfancolate immediatamente Però nel dubbio Andiamo sempre Comunque A dare questa Piccola parola Per vedere Se effettivamente C'è un qualcosa Di vero Quindi secondo me Un po' più Mostri l'acqua Subito Così Anche perché Comunque Diciamo Al momento Sono gli Attributi Più forti Che stanno Mettendo Adesso Alcune carte Comunque C'hanno Delle Locche Per gli attributi Come la trappolina Quella che fa Dash Che puoi attivare Anche dalla mano Diventa un HT C'ha delle locche Per questi Attributi Facciamo Molta Molta Attenzione Perché secondo me Potrebbe essere Un qualcosa Di Non dico Assurdo Stavo per dire Assurdo Ma non Assurdo Però Un qualcosina Secondo me Qui bolle in pentola Secondo me Potrebbero farci Una sorpresina Ovvio Ancora tutto Molto Molto Diciamo All'inizio Perché comunque Sì sono stati Tra quella di queste qua Ma non è neanche detto Che poi vada Fino a fine anno A fare questa cosa qui Però Vado a fare questa cosa qui Però Io non mi sento Neanche di dissentire Una piccola Speranzina Ce la voglio mettere Anche perché È arrivato il momento Sono passati Anni 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 Un deck Che comunque Molti vogliono Che è piaciuto A tanti Un po' Per andare A riprendere Anche i fire Che comunque Stiamo in quell'anno Lì Perché comunque Anche blue eyes 2013 14 Comunque Insomma In quelle range Lì stiamo Così anche con i draghi Chaos Che hanno messo L'infinite forbidden Cioè Uno fa 2 più 2 E cavolo Se unisce puntini Teoricamente Le cose si vanno A comporre Poi se la teoria È sbagliata Va bene Va bene Però vi devo dire Che Zitti zitti Mettendo qui Mettendo di là Qualche cosina Sta uscendo fuori Quindi Chissà Chissà Anche perché Sono passati In una decilata Insomma 10 12 anni Insomma Quindi È anche Il momento Per me È il momento Giusto Perché si sa Non lo so Sembra tutto Fatto apposta Quindi Chissà Chissà Anche con lo zompo Di uno structure Per andare direttamente A un R Non lo so Se Effettivamente C'è lo zompo Dello structure Vanno a fare Direttamente l'R A fine anno Oppure non lo fanno Oppure lo fanno Non ci attaccava Il cazzo E Via discorrendo Le ipotesi sono tanti I rischi sono ancora di più Però Insomma Questo è Questa è la mia Piccola teoria Spero che O concordiate O comunque Come al solito Fatemi sapere voi Cosa le pensate Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video Mi raccomando Tutte le teorie Le vogliamo scritte Tutte quante Mi raccomando Mi raccomando Veramente Perché poi Mi intrippo Anche perché Molto spesso Vedo dei commenti Dico Cazzo C'ha ragione E poi Li partono I trippamentari E via discorrendo Appunto Detto questo Vi sapete Cosa pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti E